Ben trovati dalla redazione di Cosmopolis News. Da oggi meno restrizioni in Italia e più aperture. La curva dei contagi lascia ben sperare con circa due terzi delle province in calo. Super Green Pass con durata illimitata. Nuovo sistema per le quarantene di mezzate a cinque giorni per i non vaccinati e per le dad con gli studenti che torneranno quasi tutti in classe. Stop a mascherina all'aperto in zona bianca da venerdì prossimo. Le discoteche potranno poi riaprire con certificato rafforzato, mascherine ma non in pista e capienza al 50%. Una nuova fase secondo il coordinatore del comitato tecnico scientifico Franco Locatelli che avverte va gestita la riapertura con una adeguata progressività. L'ultima misura a cadere sarà probabilmente il certificato verde. Dal 15 febbraio scatterà l'obbligo del Super Green Pass al lavoro per gli ultracinquantenni. Già dalla prossima settimana qualche regione potrebbe essere invece nuovamente promossa verso profili di rischio più bassi. Le norme potrebbero subire cambiamenti già in primavera. Le percentuali sulla capienza di stadi e discoteche all'aperto, ad esempio, potrebbero essere presto riviste. Coronavirus. Il bollettino del 6 febbraio segnala 77.029 casi e 229 decessi in Italia. Il tasso di positività è all'11,2%, ancora in calo i ricoveri in area non critica sul territorio nazionale, mentre sale leggermente il numero di pazienti ricoverati in terapia intensiva. In Puglia, segnalati dal bollettino regionale, 5.146 casi e 4 decessi nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività regionale è al 12,6%. Nel Tarantino attestate 652 positività. Attualmente nella regione sono 105.942 le persone positive al Covid, di cui 750 ricoverate in area non critica e 70 in terapia intensiva. In collaborazione con il personale della Capitaneria di Porto di Taranto, i poliziotti hanno sequestrato 300 kg di cozze in cattivo stato di conservazione. Piagente e i militari hanno controllato un'area posta sotto sequestro circa due anni fa e che versava in uno stato di assoluto abbandono. Insospettiti della mancanza del lucchetto apposto al cancello d'accesso, i poliziotti sono entrati cogliendo sul fatto quattro persone che in condizioni di estrema precarietà igienica erano intenti a sgusciare cozze per poi confezionarle in vaschette di plastica che presumibilmente sarebbero finite in commercio. Tutti i molluschi, compresi anche 5 kg di ricci di mare, sono stati sequestrati e distrutti con il successivo intervento di un compattatore di chimambiente. I quattro uomini sorpresi nella loro illecita attività sono stati denunciati in stato di libertà. per violazione dei sigilli e commercio di sostanze alimentari nocive. I proventi del libro di Alessandro Gasman, Io e i Green Heroes, edizioni PM, il cui curatore e l'autore e scrittore tarantino Lorenzo Laporta, saranno devoluti ad attività di piantumazione di alberi solidali proprio nel capoluogo ionico. È un progetto che vede la collaborazione di Orto Frutteto Solidale Diffuso, una realtà che ha sposato la mission del volume di Gasman, un diario di impegno civico che punta a promuovere la tutela dell'ecosistema. A renderlo noto è proprio il curatore Lorenzo Laporta, spiegando che per l'iniziativa saranno utilizzati i ricavi delle vendite e anche parte dei ricavi dei diritti d'autore. Il progetto con Alessandro Gasman, questo bellissimo libro che racconta degli eroi verdi, dei Green Heroes, ha un grande sogno, ricca con sé un grande sogno, che è quello di realizzare in Italia non solo una rinnovata coscienza ecologica, legata ai temi della sostenibilità, della salvaguardia dell'ambiente, delle risorse del creato, ma ha come scopo diretto quello di realizzare dei frutteti sospesi, frutteti solidali in favore di alcune comunità meritevoli di questo sostegno. Anche Taranto avrà questo frutteto e quindi sono molto felice e gioioso di poter annunciare questa intesa raggiunta con il grande attore Alessandro Gasman in favore di questa comunità che profuma di bellezza ovunque. E' andato di scena stamattina presso l'area esterna della sede di Confcommercio Taranto un flash mob organizzato proprio dall'ente ionico per protestare contro il caro Bollette che prevedrà un consistente aumento del costo dell'energia per bar, ristoranti, negozi alimentari e alberghi, presenti alla manifestazione alcuni operai delle varie categorie del commercio e del turismo. Purtroppo la situazione sta diventando drammatica perché credo che tutti questi aumenti che ci sono stati negli ultimi mesi stanno compromettendo anche la ripresa dell'economia perché ricordiamo che quello che è successo nel 2021 dove ovviamente si parla di una ripresa intorno al 6,5% del PIL che però ovviamente nel 2019 c'era una situazione con il 2020 meno di 11, meno di 12, il 2022 doveva rappresentare un'ulteriore ripresa per recuperare quei due anni che noi avevamo perso e abbiamo perso. Così non può essere perché il caro Bollette sta mettendo in ginocchio tantissime aziende e quello che è grave è che questo Stato che ovviamente da un po' di anni non ha mai pensato una politica energetica importante per questo Paese, se non ritorna a sedersi e a ragionare seriamente noi avremo in rapporto a competitor nostri europei una difficoltà oggettiva di ripresa e questo è quello che noi chiediamo perché il miliardo che hanno messo è niente in rapporto alla difficoltà si parla di una disponibilità per far riprendere un po' l'economia e le imprese di circa 37 miliardi questo è il dato che emerge fuori Il Taranto esce meritatamente sconfitto dal trasferta laziale di Monterosi dove i padroni di casa si sono imposti con il risultato di 2-1 La squadra di Mister La Terza approccia bene all'incontro ma il gol di Ekuban, nato da una mezza papera di Chiorra è lo spartiacque di un match che i Rosso-Blu non riusciranno più a riprendere Il Monterosi infatti dopo il vantaggio amministra grazie al pressing e a una buona circolazione di palla e solo le mani di Chiorra evitano un passivo più pesante Nel finale di gara la grossa ingenuità di Versienti origina il rigore con cui Costantino raddoppia e mette in ghiaccio la partita al 95esimo inutile il gol di Saraniti su incornata da centro area L'obiettivo adesso è non disunirsi Nel Saturday Night del 12 febbraio allo Iacovone è atteso un cambio di rotta contro una delle squadre più in forma del campionato, la Virtus Francavilla Dopo quattro vittorie consecutive arriva la prima sconfitta dell'anno per il Cusionico che nella trasferta campana di Salerno a casa della Virtus Arecchi non riesce a centrare i due punti Gli uomini di Cocciolive vanno avanti all'intervallo lungo poi però non riescono a segnare più canestri dei padroni di casa nonostante un finale di gara molto equilibrato Finisce 65-60 per il team salernitano Adesso il Cusionico è chiamato a reagire domenica in casa contro un'altra squadra campana, la Delfe Savellino Dalla redazione di Cosmopolis News è tutto al prossimo notiziario